Le parole che avrei voluto sentirmi dire erano... Può qualcuno senza Quirk diventare un eroe come te? Chiunque può diventare un eroe. Persino tu. Sono così felice. Ma per farlo devi fare 100 flessioni, 100 addominali, 100 piegamenti e 10 km di corsa ogni singolo giorno! Dici sul serio? È stranamente normale ma in effetti ha senso. E inoltre non dovrai mangiare niente lì in fuori di banane e tenere spenti i condizionatori. Soprattutto in estate. Soprattutto in estate. Soprattutto in estate.